Bike Show è offerto da Bike Show TV adesso è Talk Show Bene sono in gara vediamo che ci sono già dei corridori all'attacco c'è Agnoli Agnoli all'attacco però c'è un terzetto con Viviani Fontana e Scarponi quindi Viviani campione europeo e qua vediamo che stanno passando vediamo già c'è un po' di controllo vediamo Viviani Scarponi Fontana Chiarini grazie Fraporti Trentina anche grazie guardate Malori Pippo Pippo ti vediamo non da ciclista dai sei in forma sei pronto si siamo pronti siamo pronti oggi è importante lo scopo della manifestazione quindi non contano i risultati ma conta divertirsi e fare del bene a chi come Marina veramente ne ha bisogno voi siete qua tutti vicino proprio a Marina hai detto una cosa bellissima e abbiamo visto in gara Scarponi che adesso ha vinto la prova ciclistica tu sei pronto mica tanto infatti io preferivo andare in moto che in bici così facciamo meno fatica ma alla fine ci tocca farlo diciamo comunque state vicini a Marina Romoli Hollus e tutta l'associazione Ride for Life sì stiamo tutti quanti molto vicini perché comunque è un'associazione veramente veramente importante poi penso che Marina sia quella che rappresenta questa situazione drammatica che può succedere a qualsiasi persona quindi siamo tutti quanti uniti vicino a Marina per questa associazione per riuscire a raccogliere i fondi per la ricerca perché è veramente importante attenzione attenzione e Agnoli 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 Malori Fontana Marco Giofranta Scarponi attenzione attenzione si preparano alla volata attenzione l'ultima curva ultima curva vediamo Malori Malori Agnoli Fontana Marco Giofranta Scarponi primo Scarponi Fontana Agnoli Adriana Adriana ma ti ha tirato a volare ma guardi ragazzi alla fine penso che abbiano provato tutti quanti prima vittoria Stane grande hanno provato tutti a vincere dicevano che non erano pronti invece erano qua cattivi ha vinto più forte anche oggi vai hanno detto un marchigiano per una marchigiana per Marina si dai a parte scherzi ci siamo divertiti poi chiaramente si pedala anche però è una vittoria penso per Marina che è un'amica è marchigiana appunto come me e per Ride for Life siamo contenti di aver partecipato tutti di far felice la gente che è qua e appunto contribuire all'iniziativa di Marina bene andiamoci vediamo dopo si se ce la fa fatica arrivare la vittoria però no no dai siamo divertiti è stato forte poi c'è curve e non finire curva 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 quindi era il mio percorso andavo bene le vittorie le tenevamo per l'anno prossimo dai le vittorie le tenevamo per l'anno prossimo ci vediamo dopo nelle prossime prove all right a dopo ciao ma avete menato un po' eh un po' si gli ultimi giri dai abbiamo fatto un po' più forti prima del riscaldamento sai dopo tanto tempo che siamo fermi e abbiamo fatto così dietro un allungato l'ultimo giro abbiamo provato per non rischiare le curve dai bene così dopo ci vediamo la prossima gara si dopo più tardi 30 chiudo vai allora 3T ma sei bello fresco eh insomma no no alla fine siamo anche andati eh no dai eh niente siamo qua per questo evento aiutare marine aiutare chi ha bisogno e dai fa molto piacere vedere così tanti ciclisti così tanti corridori dell'ambiente che comunque sono sono sensibili a questo tema poi ci vediamo le prossime gare se è greco go-kart no 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 faccio solo le gare in bici perché è meglio che inizi ad andare in bici no ho già fatto il mio periodo di stacco quindi alla fine non sono un buon pilota per il resto non puoi perderti il meglio di Bike Show TV rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube Bike Show è offerto da iscrivendoti a canale di Bike Show Grazie a tutti.